Sarallo Famosi, il drive time di Radio Roma, con Lele Sarallo e Lori. Siamo un messaggio bellissimo che ci è arrivato. Ce l'hai la base di Fausti Vini? No, ma no. Fausti Vini. Cosa fai? Mi stai rubando il telefono, scusa. Una base romantica. Una base romantica. È arrivato un messaggio lunghissimo. La nostra redazione ci ha inviato questo messaggio, che è stato inviato pochi minuti fa da Gabriele, che salutiamo. Vi sto ascoltando e vorrei ringraziarvi per la compagnia che mi fate tutti i giorni. Siete unici. Vorrei raccontarvi una cosa, premettendo che sono una persona molto sensibile, ma che però piange raramente. E la maggior parte delle volte accade mentre ascolto della musica, che scatena in me forti emozioni. Io già sto piangendo, perché io sono così. Anche io sono così. Bene, ieri siete riusciti a toccare le note giuste per strapparmi una lacrima mentre guidavo. Nel momento in cui avete intonato in coppia il ritornello di La favola mia di Renato Zero. Ho i brividi, raga. È stato un momento di forte energia positiva e nostalgia, accompagnato da un estremo amore per la vita e per voi naturalmente. Amo le vostre voci. Impazzisco in particolare per quelle dei Lory. Ma grazie, Gabriele! È ovvio! Gabriele, sei impazzito più per me. Era un problema. No, non è che è un problema, è che la voce più bella è quella dei Lory. È la voce, il The Voice. Amo le vostre voci, impazzisco in particolare per quella dei Lory. E sarebbe un sogno per me inserirla in una delle mie produzioni di Underground House Music. Quindi è anche un producer. Gabriele, Gabriele! Gabriele, Gabriele! Perché no, dai, perché no? Perché no, perché no? Poi cercheremo di mettere in contatto, di matchare, come si dice in genere. Sarallo Famosi, il Drive Time di Radio Roma, con Lele Sarallo e Lori. Dal lunedì al giovedì, dalle 16 alle 19. Canale 15 del Digitale Terrestre.